Che cos'è tutta questa patina nera sui miei grumi sui limoni e come posso risolvere? Questa essenza nera fuliginosa chiamata appunto fumagine non è altro che un fungo che cresce sulle sostanze che rilasciano gli insetti che stanno succhiando la linfa sulle nostre piante pensiamo agli afidi, pensiamo alla cocciniglia cotonosa ecco che per evitare che si presenti sulle nostre piante occorre fare prevenzione sugli insetti e io cosa vi consiglio vi consiglio questo prodotto assolutamente biologico il video lo trovate sul canale youtube una volta però che ho la fumagine sulla pianta di limone posso toglierla con questo prodotto qua è il sapone molle potassico dato sulla nostra pianta ad alta pressione scioglierà pian piano questa essenza fuliginosa il video di come si tratta con il sapone molle potassico lo trovate sul canale youtube un saluto a tutti i ragazzi